dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile il trattamento shiro d'ara renderà i tuoi capelli forti e luminosi grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante accompagnato da un lento e rilassante massaggio da noi trovi solo prodotti di origine biologica ricavati da piante e fiori niente siliconi petrolio e derivati o coloranti artificiali extro ti aspetta a casteggio in viale giulietti 23 l'impianto è in corso di verifica da parte delle autorità regionali per questo abbiamo chiesto una procedura d'urgenza per la trattazione di questa richiesta e chiediamo che la risposta della commissione petizioni del parlamento dell'unione europea venga comunicata alle autorità italiane con la massima celerità si apre con queste parole l'intervento di alberto cirio che lunedì durante un'audizione al parlamento europeo ha presentato ai colleghi europarlamentari il caso dell'impianto pirolisi di retorbido una richiesta che è stata ampiamente soddisfatta la commissione infatti si è schierata dalla parte dei cittadini ed invierà presto una lettera formale a regione lombardia chiedendo di fermare la procedura in attesa che la commissione europea si esprima sul caso innanzitutto è importante che l'europa parli di questo argomento parli di questa materia parli di questo intervento e soprattutto che noi possiamo dire anche dai microfoni dell'europa che questo intervento non lo vogliamo non lo vogliamo non soltanto perché abbiamo molti dubbi merito anche all'aspetto tecnico autorizzativo per quanto riguarda un intervento di questa portata ma non lo vogliamo perché non lo riteniamo opportuno non lo vogliamo perché questo violenterebbe il tessuto rurale agricolo di una terra di eccellenza violenterebbe un tessuto turistico fatto di potenzialità termali molto significative e per cui lo vadano a fare un'altra parte questa è la voce chiara che vogliamo che si levi anche dal parlamento europeo all'interno di quello che è un organismo la commissione petizioni che da la parola petizione chiara la voce alle persone e ai cittadini europei quest'europa non ci piace molto spesso però quando ci può aiutare dobbiamo utilizzarla e oggi la utilizzeremo per dire no a questo impianto che noi non vogliamo presente durante l'audizione a bruxelles una delegazione di sindaci dell'oltrepò il primo cittadino di retorbido isabella cebrelli i sindaci di rivana zanoterme romano ferrari ed i bagnari e mattia franza oltre che carlo barbieri e federico taverna sindaco e consigliere vogheresi attualmente sospesi siamo arrivati in europa siamo passati per la lombardia siamo andati a fare un'audizione a roma in senato e finalmente siamo giunti anche qua al parlamento europeo di bruxelles mi faccio ringraziare l'onorevole cirio e tutti i suoi collaboratori che ci hanno invitati per questa audizione noi abbiamo portato il progetto che consegneremo e diremo che assolutamente questo inceneritore non deve essere fatto sul territorio di retorbido la localizzazione è sbagliata per tantissimi motivi primo fra tutti è un territorio agricolo e vitivinicolo per cui desterebbe serie preoccupazioni per tutti gli agricoltori dal nostro territorio sono migliaia le persone che hanno manifestato retorbido 20.000 quasi le firme raccolte 135 quelle dai sindaci è ormai diverso tempo diciamo che il territorio attraverso una mobilitazione spontanea di cittadini le istituzioni del territorio attraverso i sindaci i consiglieri comunali gli assessori stanno portando avanti quella che è una battaglia civile in difesa io dico di difesa della libertà perché quando a essere in gioco sono aspetti come la tutela della salute la tutela del territorio la tutela della propria economia si sta facendo prima di tutto una battaglia di libertà prima ancora che è una battaglia politica noi abbiamo chiesto anche all'europa di accendere i riflettori su questa su questo impianto di pirolisi perché riteniamo doveroso che anche l'unione europea ci ascolti e che anche l'unione europea esprima una posizione a riguardo ci sono normative europee che parlano chiaro in materia di tutela della salute e di tutela dell'ambiente ed è proprio per questo motivo che noi chiediamo con forza di essere ascoltati chiediamo con forza che l'unione europea non ci volti le spalle dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile il trattamento shiro d'ara renderà i tuoi capelli forti e luminosi grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante accompagnato da un lento e rilassante massaggio da noi trovi solo prodotti di origine biologica ricavati da piante e fiori niente siliconi petrolio e derivati o coloranti artificiali extro ti aspetta casteggio in viale giulietti 23